Sono stati completati, collaudati e consegnati i lavori di adeguamento funzionale dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A renderlo noto è lo stesso direttore generale dell'Asla di Salerno, Antonio Squillante, che ha salutato la conclusione degli interventi con soddisfazione, essendo addetto il presupposto fondamentale per garantire un'assistenza qualificata ed elevati standard di cura. Tacitate dunque le polemiche di questi mesi, sollevate anche dai sindacati, circa le carenze di personale e i limiti del presidio, si guarda alle novità strutturali introdotte. L'ospedale Principe del Cilento e di tutta l'area più a sud di Salerno ha visto ultimati per 5 milioni di euro i percorsi delle sale operatorie ortopediche, l'impermeabilizzazione delle coperture di ostetricia, utica e chirurgia generale, i pavimenti e gli infissi di rianimazione, l'adeguamento di alcuni impianti, la realizzazione della nuova centrale termica, gli interventi sugli allarmi, la sistemazione parziale del parcheggio dei dipendenti con la realizzazione di due scale, gli infissi e altri interventi nella psichiatria mai più riaperta dopo il caso Mastro Giovanni e il collegamento con la centrale allarme frigo-emoteche per l'accreditamento regionale al catastro impianti termici. Squillante ha anche fatto sapere che sono in esecuzione i lavori di sistemazione delle aree esterne, i parcheggi e la trasformazione della centrale termica GPL, mentre si va verso l'appalto in quanto sono stati completati i progetti esecutivi definitivi per i lavori della sala operatoria di ostetricia e ginecologia, dei percorsi della sala operatoria centrale e dell'intonaco, gli infissi e i bagni dell'ala di spirito e dell'ala schiavo. Insomma un restyling importante per il San Luca di Vallo che rappresenta, secondo Squillante, un ulteriore passo per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei presidi ospedalieri dell'asla di Salerno e testimonia l'interesse di questa direzione per l'intero territorio provinciale. Restano le carenze d'organico ma questa è un'altra storia.